Bene, ci accostiamo alla parola. Io desidero condividere alcuni versi così come li troviamo scritti nel libro degli Atti degli Apostoli. Quindi, al capitolo 5, leggiamo insieme dal verso primo, Atti degli Apostoli, capitolo 5. Voglio chiedervi di stare all'impiede insieme con me, vogliamo onorare anche in questo la lettura della parola di Dio. Dal primo verso, a Dio sia tutta la gloria. Ma un uomo, di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli Apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde, espirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirano queste cose. I giovani alzati, sinavvolsero il corpo, e portatolo fuori, lo seppellirono. Circa tre ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto il podere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella, in quell'istante, cadde ai suoi piedi e espirò. I giovani entrati la trovarono morta e, portata la via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Chiniamo un attimo il nostro capo. Non so che abbiamo pregato, ma desidero ancora un momento rivolgermi a Dio nella preghiera. Signore, questo è il momento principale di questo culto. Possiamo dire il momento più importante di questo culto. perché è il momento che sarai tu adesso a parlare al nostro cuore e lo farai attraverso la tua parola predicata. Ci siamo rallegrati il cuore, Signore, nell'ascoltare anche attraverso le testimonianze del tuo amore, della tua grandezza, della tua fedeltà, di come tu muovi le cose, di come tu agisci con potenza. E' stato bello, Signore, poter cantare le tue lodi, pregare, intercedere al trono della tua grazia. Ma ora, Signore, ti chiediamo, parla al nostro cuore. E fa che questa parola predicata questa sera possa giungere con semplicità, ma possa giungere anche con potenza al nostro cuore. E noi ti ringraziamo, Signore, lo facciamo nel nome di Gesù, il tuo figlio che tu hai amato e benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli e sorelle. Il testo che abbiamo davanti, credo di poter dire con certezza, che è sicuramente un testo famoso, un testo conosciuto. Chissà quante volte l'abbiamo letto personalmente, quante volte abbiamo letto questa storia, quante volte magari abbiamo ascoltato delle predicazioni su questa storia, quante volte magari questa storia ci ha parlati. Ed è una storia ricca di insegnamenti, che ci sono diverse verità che lo Spirito Santo mette in evidenza. Alcune di queste, ad esempio, una di queste verità è che quando si vive lontani dal Signore, immancabilmente si cade nelle mani dell'avversario. Quando ci allontaniamo, quando viviamo lontani da Gesù, immancabilmente cadiamo nelle mani dell'avversario. E il brano che abbiamo davanti mette tra le altre cose anche in risalto questa verità. Insomma, abbiamo letto, Pietro disse ad Annania perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo. Come ha fatto Satana a riempire il cuore di quest'uomo? Ha trovato spazio in questo cuore. E quando noi ci allontaniamo dal Signore, quando il nostro cuore non è ripieno delle cose di Dio, allora il nemico delle anime nostre trova spazio. E noi vogliamo dire questa sera, Signore aiutaci a vivere, ad avere una relazione stretta e profonda fino al giorno del tuo meraviglioso e glorioso ritorno. Un'altra verità che questo brano mette in evidenza è che il peccato, fratelli e sorelle, produce sempre delle conseguenze. La Bibbia dice in maniera chiara che il salario del peccato è la morte, ma è il dono di Dio, è la vita eterna in Cristo Gesù. E questo brano, tra le altre cose, non solo ci porta a riflettere sul pericolo di quando ci si allontana dal Signore, che si cade nelle mani di Satana, nelle mani dell'avversario, ma ci porta anche a considerare che il peccato, quando viene commesso, produce sempre delle conseguenze. Ancora questo brano ci porta a riflettere su un'altra meravigliosa verità, lo Spirito Santo è una persona. Amen. Noi crediamo nella Trinità, nel Padre, nel Figlio e nella persona dello Spirito Santo. E a differenza di chi magari crede, insegna, che si tratti di un'energia o di una forza attiva, noi continueremo a proclamare, ad annunciare, ad insegnare che lo Spirito Santo è la meravigliosa persona della Terza Trinità. Come mai hai mentito allo Spirito Santo? E ancora questo brano ci porta a considerare che Dio è onnisciente. Possiamo nascondere le cose agli uomini, possiamo nascondere le cose alle persone intorno a noi, forse alla persona più vicina a noi possiamo nascondere delle cose, ma non possiamo nascondere nulla al Signore. E questa coppia in qualche maniera avevano accordato qualcosa, pensando di tenerla nascosta, ma ciò che loro pensavano di tenere nascosto non poteva essere nascosto agli occhi del Signore. Ci sono ancora tante altre cose che questo brano della parola mette in evidenza, ma questa sera, fratelli e sorelle, io vorrei porre la vostra attenzione non sulla figura di Pietro, neanche sulla figura di questa coppia, anche se sicuramente sono le figure principali, i protagonisti di questa storia, ma in questo brano troviamo una figura un po' più nascosta, che insomma questa sera sarà oggetto della nostra meditazione. In questo brano abbiamo letto che a un certo punto, al verso 6, dopo che Pietro rivolgerà quelle parole ad Anania e Anania morirà a motivo di ciò che aveva fatto, a motivo della menzogna, si legge che si parla di alcuni giovani. Chi sono questi giovani? Non sappiamo chi sono, non conosciamo i loro nomi, non sappiamo quanti ne fossero, ma in questo brano della parola si parla di loro. Io quando incontro queste figure mi piace definirli personaggi nascosti, personaggi che sono un po' dietro le quinte, di cui si conosce poco, di cui si sa poco, ma noi sappiamo che alla luce della parola di Dio se in questa storia, in questo brano, c'è anche la figura di questi giovani, se lo Spirito Santo ha voluto che si parlasse anche di loro, benché una figura di personaggi nascosti, poco conosciuti rispetto a Pietro, rispetto ad Anania, rispetto a sua moglie, è perché anche attraverso di loro, questa sera, lo Spirito Santo ci donerà qualcosa, perché attraverso la figura di questi giovani, questa sera considereremo quelle che possiamo chiamare alcune qualità, alcune qualità che troviamo in questi giovani, e sono delle qualità, permettetemi di dire, che il Signore desidera trovare nella vita di ogni credente nato di nuovo. Se dovessimo dare un titolo alla predicazione di questa sera, potremmo intitolare questa predicazione le qualità della Chiesa del Signore, perché attraverso la figura di questi giovani io vi voglio parlare di alcune qualità che sicuramente il Signore desidera trovare nella nostra vita e che desidera trovare nella sua Chiesa. Quali sono queste qualità che trasmettono questi giovani? Intanto non so se avete notato, il brano dice Anania, udendo queste parole, cadde a terra e spirò. Verso 5. E nel verso 6 subito si legge i giovani alzatesi avvolsero il corpo e lo portarono fuori. Mi colpiva questo atto di questi giovani che davanti a questa situazione, immaginate la scena, c'è Pietro da questo lato, davanti a sé c'è Anania che fino a un momento prima è lì che sta parlando con Pietro, poi Anania spirò, Anania muore, Anania cade a terra e si legge che questi giovani davanti a questa situazione che stanno lì a vedere si alzarono e si alzano interessante notare si alzano con spontaneità. Il loro alzarsi è un alzarsi in maniera spontanea, diremmo anche questa sera in maniera naturale. non è stato Pietro a dirgli a questi giovani di alzarsi di fare qualcosa ma davanti a questa necessità, davanti a questa situazione troviamo questi giovani che con spontaneità, che con naturalezza e permettetemi di aggiungere con prontezza si alzarono, non rimangono indifferenti davanti a un bisogno. Fratelli e sorelle siamo chiamati a servire il Signore con spontaneità, con naturalezza, siamo chiamati a servire il Signore con prontezza. Insomma il risultato della nuova nascita il servizio che noi dobbiamo rendere a Dio deve essere un servizio spontaneo, un servizio che deve essere reso al Signore in maniera spontanea, in maniera naturale, senza nessun obbligo, senza nessuna costrizione, perché? Perché servire Dio non è un obbligo, ma servire Dio è un grande privilegio e ci sono delle cose che noi dobbiamo fare in maniera spontanea, in maniera naturale e sto facendo riferimento al servire il Signore. Insomma quando un bambino nasce comincia a piangere, nessuno, nessuno ha insegnato al bambino il pianto, è qualcosa di naturale, la mamma capisce quando quel pianto fa riferimento al fatto che ha fame o quel pianto invece è associato a un dolore ma sono cose che sono naturali in un bambino. Fratelli e sorelle noi con naturalezza, con spontaneità dobbiamo servire il Signore. Ci sono cose che fanno parte del servizio a Dio che noi dobbiamo fare in maniera naturale, in tutta quella che è la sfera del servizio a Dio che si tratti di aspetti materiali o che si tratti di aspetti spirituali vogliamo servire il Signore con spontaneità, con naturalezza. Amen. Visitare qualche ammalato, pregare per chi è nella sofferenza, non dobbiamo aspettare che qualcuno ci dica di farlo, non abbiamo bisogno di aspettare che il pastore ci dica di visitare un ammalato, deve essere qualcosa di spontaneo, qualcosa di naturale, qualcosa che deve venire dal cuore che ci deve portare ad arrivare a chi magari sta attraversando un momento di malattia, un momento di sofferenza, un momento di scoraggiamento e ha bisogno che qualcuno gli dia una parola di conforto, una parola di incoraggiamento. Amen. Si alzarono, e lo fanno con naturalezza, e lo fanno con prontezza, Dio ci aiuti a servirlo con prontezza. Sapete qual è il pericolo? Il pericolo che si corre è un pericolo serio, si rischia di cadere nella pigrizia, si rischia di cadere nella tiepidezza, perché se non si è pronti, se non c'è prontezza, se non c'è zelo, se non c'è entusiasmo, si cade, si cade nella pigrizia, si cade nella tiepidezza, si rimane seduti a guardare senza alzarsi e disporsi per poter servire il Signore. e la Bibbia riguardo a tiepidezza e a pigrizia in maniera chiara ci dà degli avvertimenti poiché tu non sei né freddo né fervente ma sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. lo scrittore dei proverbi parlando del pigro definirà il campo del pigro spine, rovi, le mura tiroccate, incrociare un po' le braccia, dormire un po', sonnecchiare un po'. Fratelli, sorelle, qualunque sia la nostra età anagrafica vogliamo continuare a servire il Signore con prontezza e lo vogliamo fare con spontaneità e lo vogliamo fare con naturalezza e lo vogliamo fare fino alla fine dei nostri giorni. Amen. Se c'è un tempo anagrafico per il quale si può andare in pensione, insomma, l'Italia, in Italia il limite di età per andare in pensione è quale? 65, 70, non lo so esattamente, ma se questo vale per la vita terrena fratelli e sorelle lasciatemi dire per quello che concerne il nostro servizio al Signore qualunque sia la nostra età, eh, mo' non voglio scoraggiare nessuno, ma non si va in pensione, eh, vogliamo servire il Signore, lo vogliamo servire fino alla fine e lo vogliamo fare con zelo, lo vogliamo fare con entusiasmo, lo vogliamo fare con gioia, lo vogliamo fare con naturalezza, lo vogliamo fare spontaneamente e lo vogliamo fare soprattutto con tutto il nostro cuore, non rimangono indifferenti davanti a questa situazione, ma si alzano, è tempo di alzarsi, è tempo di cambiare posizione perché forse è da troppo tempo che si rimane seduti a guardare, si alzarono, non dimentichiamo le parole di Gesù, la messe è grande e gli operai sono pochi e noi come operai non possiamo permetterci il lusso di rimanere seduti a guardare sapendo che davanti a noi c'è un grande bisogno, amè? Gesù sta per ritornare e ci sono ancora tante persone che hanno bisogno che qualcuno gli porti il lieto messaggio della salvezza che la chiesa dell'iddio vivente è vero possa ancora in questo tempo nella città di mesilmeri alzarsi e raggiungere le anime perdute amen cosa ci insegnano ancora questi giovani questi personaggi nascosti poco conosciuti si alzano davanti a un bisogno non rimangono indifferenti si alzano con spontaneità e con prontezza ma poi io leggo avvolsero il corpo perché si sono alzati per fare che cosa per avvolgere il corpo di Anania che è morto c'è una salma davanti a loro e loro si alzano per avvolgere il corpo oggi ai nostri giorni insomma quando ci sono situazioni di persone che muoiono si chiamano le onoranze funebri le onoranze funebri fanno questo servizio almeno dalle parti nostre è così vengono a casa preparano la salma per poi insomma organizzare il tutto per il funerale ora non so quanti di noi sarebbero disposti a fare questo tipo di lavoro io personalmente se vedo anche una ferita grave non mi fa niente ma se per esempio vedo un ago nel braccio ogni tanto vado a fare una donazione una ferita grande grave vi assicuro che ne ho viste sono militare sono stato in Afghanistan in Iraq ho visto alcune cose ma se vedo un ago nel braccio quando vado a fare la donazione devo guardare dall'altro lato perché se guardo l'ago svengo subito e mi conosco so che magari un mestiere un servizio che rendono quelli delle onoranze funebri magari io preferirei non farlo non lo farei non lo so dicevo quanti farebbero questo tipo di lavoro questo tipo di servizi ma perché stai dicendo questa cosa perché questi giovani è interessante notare il motivo perché si sono alzati si sono alzati per avvolgere un corpo davanti a loro c'è una salma c'è un morto e loro si alzano per fare un servizio lasciatemi dire che forse altri non avrebbero voluto fare Dio ci aiuti a servirlo in ogni cosa l'errore che magari possiamo commettere sapete qual è è quello di magari preferire alcuni tipi di servizio preferire di servire Dio in alcune cose quelle che magari ci piacciono di più e magari allontanarci scansare quei tipi di servizi che forse non vorremmo fare o che non preferiamo fare ora lasciatemi dire non tutti siamo chiamati a predicare ma aspettate mi sto riferendo alla chiamata al ministero perché predicare l'evangelo siamo chiamati a farlo tutti amè non tutti siamo chiamati a cantare possiamo avere un talento non tutti di noi hanno un talento per cantare io quando cantiamo in chiesa e siamo nella loda e nell'adorazione faccio sempre attenzione a staccare il mio microfono perché le volte che mi dimentico e vado a risentire la registrazione vi lascio immaginare il risultato perché poi la mia voce copre quello delle cantanti e insomma è qualcosa che non si può ascoltare io non ho questo talento non tutti hanno questo talento per poter cantare non tutti siamo chiamati a cantare non tutti siamo chiamati a suonare non tutti siamo chiamati ad essere monitori di scuole domenicali non tutti siamo chiamati a fare magari quei servizi che sono più in vista a differenza di altri ma tutti siamo chiamati a servire il Signore Amen e a me questi giovani mi hanno trasmesso questo si sono alzati con naturalezza senza che nessuno gli ha detto niente oggi a volte non lo so se a Misilmeri succede la stessa cosa ma a me alcune volte insomma devo stare a dire ai giovani a qualcuno se magari fanno questo o fanno quest'altro ma questi giovani del brano di cui abbiamo davanti non hanno bisogno che Pietro gli dica qualcosa non hanno bisogno che qualcuno gli dica di alzarsi è fare qualcosa lo fanno con spontaneità lo fanno con naturalezza e forse stanno facendo qualcosa un servizio che qualcun altro non vuole fare perché non gli piace in una cassetta degli attrezzi chi ha la cassetta degli attrezzi i fratelli quando l'apriamo eh ci sono diversi attrezzi e tutti sono utili io ricordo che dopo qualche anno dalla mia conversione il mio pastore uno dei miei pastori il fratello Michele Venditti mi chiamò una sera con i fratelli del consiglio di chiesa e mi disse fratello Giuseppe abbiamo fatto una riunione con il consiglio di chiesa e abbiamo deciso di affidarti il servizio della libreria io non sapevo neanche in che cosa consistesse questo servizio di libreria e cominciai a indietreggiare provai un po' a svincolarmi un po' come fece Mosè con Dio le obiezioni di Mosè vi ricordate però mi avevano circondato e poi mi citarono la scrittura e mi dissero ricordati che è scritto che chi è fedele Dio ci aiuti a servirlo nelle piccole cose per essere fedeli anche nelle cose più grandi dai servizi più in vista a quelli più nascosti dalle cose che magari preferiamo fare dalle cose che ci piacciono di più fare alle cose che forse non vorremmo fare io non conosco nessuno di voi solo in maniera virtuale avete ascoltato mia moglie con il telefonino ascoltiamo lei più di me i vostri culti e mi sento libero di dire se c'è qualcuno in mezzo a noi che magari nel suo cuore c'ha qualcosa che magari qualche riserva verso qualche servizio che forse non gli piace fare questa sera questa sera lascia che il Signore possa ancora con dolcerza farti comprendere che non c'è servizio che possa essere migliore di un altro ma dalle cose più in vista a quelle più nascoste vogliamo insieme servire il Signore amén si alzarono con naturalezza si alzano per avvolgere un corpo e poi ci sono notate dice così alzatisi avvolsero il corpo portatolo fuori lo seppellirono lo seppellirono si alzarono lo avvolsero portatolo fuori lo seppellirono cioè ognuno di questi verbi è coniugato al plurale c'è qualcosa che hanno fatto insieme insieme si sono alzati insieme hanno avvolto questo corpo insieme hanno preso questo corpo e lo sono portati fuori insieme hanno preparato il tutto per la sepoltura insieme lo hanno seppellito questi giovani ci mettono davanti a noi questa sera un'altra meravigliosa verità un principio una qualità che deve contraddistinguere che deve caratterizzare la chiesa dell'iddio vivente e vero la collaborazione il servire il signore insieme amè perché siamo un unico corpo e insieme vogliamo collaborare per l'avanzamento del regno di Dio insieme vogliamo collaborare per la salvezza delle anime insieme vogliamo portare avanti l'opera del signore insieme vogliamo portare i pesi portati i pesi gli uni gli altri e in ogni cosa vogliamo sì gioire insieme ma vogliamo anche collaborare lavorare sudare stancarci insieme amè non c'è posto per spettatori ma c'è posto per tutti coloro che vogliono collaborare insieme nel libro di Nemia quando si parla della ricostruzione delle mure delle porte c'è proprio questa parola che viene ripetuta più volte insieme 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 uomini che hanno lavorato gomito a gomito per la ricostruzione di queste mura e di queste porte uomini ordinari che hanno compiuto un'opera straordinaria e l'hanno compiuta insieme è come non ricordare la storia di quell'uomo paralitico su quel lettuccio di cui è scritto che quei quattro amici lo presero e lo portarono da Gesù e quando sono arrivati davanti alla casa dove Gesù era dentro non potevano entrare la storia la conosciamo c'era una folla insieme lo hanno portato hanno portato il peso insieme immaginate se uno di loro si doveva caricare il peso di questo paralitico immaginate se uno di questi giovani si sarebbe dovuto caricare il peso di Anania scavare fare dire quanto lavoro quanta fatica ma insieme insieme si arrampicano insieme creano un'apertura insieme calano quest'uomo davanti a Gesù e insieme gioiscono perché quel giorno quell'uomo riceverà guarigione amén si si fatica insieme ma si gioisce insieme quando si godono delle benedizioni del Signore amén Dio ci aiuta ad essere una Chiesa unita perché una Chiesa unita è una Chiesa che avanza una Chiesa unita è una Chiesa che prospera una Chiesa unita è una Chiesa che vince si alzarono avvolsero il corpo lo portano fuori e lo seppelliscono le qualità della Chiesa del Signore c'è un'ultima cosa che sempre questi giovani questa sera ci trasmettono giovani sconosciuti personaggi nascosti di cui non conosciamo provenienza età nome non sappiamo niente e l'ultima cosa che questi giovani ci trasmettono sapete qual è il brano dice che dopo tre ore la moglie di Anania si presenta a Pietro la storia l'abbiamo letta ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e le spirò anche lei morirà anche lei pagherà nella stessa misura di suo marito questo ci dice fratelli e sorelle che ognuno di noi risponde personalmente delle proprie azioni davanti a Dio e questo ci dice che Dio non ha riguardi personali con nessuno perché questo complotto fatto da entrambi porterà le stesse conseguenze prima nel marito e poi nella moglie anche lei cadde e spirò ma notate che cosa dice la Bibbia riguardo a questi giovani avete ancora la Bibbia aperta leggete che cosa dice verso 10 nella seconda parte è interessante è meraviglioso i giovani entrati la trovano morta e portata la via la seppellirono vicino a suo marito cioè questi giovani entrano e trovano la stessa scena di prima da dove stanno venendo hanno appena seppellito Anania hanno avvolto questo corpo l'hanno portato fuori hanno preparato tutto per la sepoltura c'è stata anche un lavoro una fatica che hanno fatto tornano dentro e trovano la stessa scena e loro rifanno tutto da capo senza dire neanche una parola fanno tutto in completo silenzio senza neanche dire una parola ma noi siamo appena tornati Pietro fatemi usare un linguaggio attuale faccio andare a fare una doccia siamo tutti sporchi ci siamo appena affaticati per fare la sepoltura di Anania chiama qualcun altro sempre noi dobbiamo andare per quanti ce ne stanno rifanno tutto esattamente in completo silenzio molte volte ho concluso facciamo come il popolo di Dio e ci lamentiamo e mormoriamo e non ci sta bene questo e non ci sta bene quest'altro e non va bene questa cosa e i climati azzurri sono troppo freddi e poi sono troppo caldi e la predica è troppo lunga e il cantico è così e questo è così succede anche a Misilmeri o la chiesa è perfetta a Misilmeri vogliamo dire questa sera signore aiutaci a servirti e a farlo in silenzio aiutaci signore affinché al tuo cospetto non arrivino lamentele e mormori perché so pericolose queste due cose io nella Bibbia leggo ho concluso che in un certo momento del popolo di Israele quando era nel deserto fecero arrivare al cospetto di Dio lamentele e mormori e queste lamentele e questi mormori non hanno affatto rallegrato il cuore del Signore anzi scese un fuoco dal cielo ma non è stato un fuoco di benedizione è stato un fuoco di ira di Dio la lamentele e mormorio ha prodotto l'ira di Dio un fuoco che verrà ricordato come il fuoco di tabera a motivo di queste lamentele di questi mormori che il popolo di Dio il popolo di Dio fece arrivare al cospetto del Signore vogliamo fare ogni cosa con gioia vogliamo fare ogni cosa con spontaneità vogliamo fare ogni cosa con prontezza vogliamo fare ogni cosa con gioia e con zelo vogliamo collaborare insieme per l'avanzamento del regno di Dio qualunque sia il servizio da quelli più in vista a quelli più nascosti da quelli che più ci piacciono a quelli che meno ci piacciono e vogliamo fare ogni cosa in silenzio queste qualità ho concluso sapete a che ci portano a riflettere alla persona di Gesù che in maniera spontanea possiamo dire così ha lasciato il cielo per venire sulla terra per fare qualcosa che forse nessuno anzi che nessuno di noi avrebbe voluto potuto fare potuto biblicamente e voluto umanamente dare la sua vita per noi si è caricato dei nostri peccati e la Bibbia dice che ha compiuto ogni cosa come un agnello condotto al mattatoio è scritto che compì ogni cosa in silenzio stiamo in piedi in piedi in piedi Grazie a tutti.